Il 5 settembre partiranno i lavori di rifacimento delle parti ammalorate del piazzale del centro commerciale I Portici all'Annunziata attraverso la rimozione delle radici degli alberi dei pini che hanno sollevato letteralmente tutta quella porzione. Era un impegno che avevamo preso e gli impegni vanno mantenuti unitamente alla rimozione a seguire dopo una decina di giorni non appena verrà ultimato questo primo intervento di tutte le radici anch'esse insistenti nella porzione della piazza del San Giovanni XXIII la piazza della chiesa di San Pietro e Paolo a Lido e della via Curiel che impediscono persino alle macchine e a quella che trasporta i feretri dei defunti per l'ultimo saluto. Lunedì 5 settembre partiranno in contemporanea anche i lavori che elimineranno i problemi in via Filetto nella frazione Colleranesco. Consisteranno nel rifacimento integrale di 400 metri di tubatura nella parte finale di quella via dove insistano diverse residenze nonché nella disosturazione dei 400 metri iniziali. E' un problema anche questo annoso che troverà soluzione.